Siamo riusciti a dimostrare che si può realizzare un unico polo ospedaliero importante vicino all'università, vicino il campus e quindi non togliendolo dal centro della città. Siamo pronti a mettere a disposizione l'area vicino al cimitero maggiore per l'alizzazione di un obitorio vicino al cimitero come succede in altri stati europei che darebbe la possibilità dell'abbattimento e della partenza del primo blocco di tutta l'area. Mi sarebbe aspettato in queste settimane come abbiamo fatto noi, testa bassa, lavorare e cercare di produrre documenti di carattere tecnico. Le lettere sì si possono fare però io penso e sono sicuro che con l'università bisogna cercare di trovare una soluzione però facciamolo su tavoli tecnici non con comunicati stampa. Grazie per la visione!